L'arrivo a Vittoria sabato prossimo del governatore Crocetta costituisce un'opportunità da non perdere per i commercialisti blei in vista della realizzazione in città della zona franca urbana. Il consigliere dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ragusani Giovanni Randazzo, soffremandosi sul decreto del 23 gennaio scorso del Ministero dello Sviluppo Economico, che individua Vittoria come zona franca urbana, rileva che la questione è stata oggetta tra l'altro nei giorni scorsi di un convegno ospitato alla Fiere Maia. La partecipazione, spiega Randazzo, è stata massiccia da parte del nostro ordine, anche per l'importanza sul territorio di questa insostituibile opportunità per le imprese ricadenti nella zona franca. Nel corso del convegno si è parlato del decreto attuativo, che include il modello dell'istanza per la richiesta dell'agevolazione, le modalità e i termini per la presentazione della stessa. Inoltre sono stati trattati punti più salienti circa i benefici e le agevolazioni concedibili, quali l'esenzione delle imposte sui redditi, l'esenzione dell'IRAP, l'esenzione dell'IMU, del versamento dei contributi sulle retribuzioni del lavoro dipendente. Evidentemente, rimarca il consigliere, sono emersi degli interrogativi che meritano urgentemente delle risposte per una corretta applicazione dell'agevolazione. L'arrivo di Crocetta a Vittoria in tal senso potrà contribuire a chiarire alcuni aspetti su cui i professionisti credono che sia fatta piena chiarezza sul piano prettamente procedurale.